Quello che il sindaco evidenziava che era assente era il medico della MSA, ma questo succede perché è una struttura integrata sul territorio, per cui la risposta arriva dalla centrale operativa, se serve una macchina medicalizzata arriva la macchina medicalizzata nei tempi previsti. Da Cagli arrivano in 20 minuti l'assenso del medico della MSA, cioè di una postazione ipotes, questa si è verificata perché abbiamo avuto delle malattie in un gruppo, 7 unità mediche contestualmente in assenza per malattia, ma in un gruppo di 50 medici e comunque in un sistema che garantisce l'arrivo dell'ambulanza o infermeristica o medicalizzata sul territorio se serve, quindi non c'è stata nessuna scopertura di servizio. Comunque c'è sempre quel lasso di tempo che mette a rischio la vita dei cittadini. Quello che riguarda il sistema dell'emergenza urgenza è assorbito da una rete che copre il territorio provinciale e questo viene fatto indipendentemente, se la macchina si fosse rotta piuttosto che era da un'altra parte, non è che teniamo scoperto un territorio, arriva una macchina medicalizzata nei tempi necessari per l'intervento, quindi stanno dentro i 20 minuti.